Viva l'Arma dei Carabinieri, viva l'Italia! Chiude così il messaggio del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, rivolto a tutti i comandi regionali dell'Arma d'Italia. Oggi infatti la Bene Merita celebra il 199esimo anniversario della sua fondazione, una celebrazione sobria all'insegna del risparmio, così come voluto dal Presidente Napolitano, ma molto pregnante e incentrata su quello che rappresentano i valori fondamentali che in quasi due secoli hanno contraddistinto l'Arma dei Carabinieri. Umiltà, fratellanza, cuore e passione, le principali virtù che ogni Carabiniere deve possedere. E proprio su questo si focalizza il discorso del generale Adelmo Lusi, comandante della Legione Carabinieri Calabria, prima di premiare e onorare con encomi e medagli alcuni uomini dell'Arma, distinti per coraggio, tenacia e serietà. Un periodo questo in cui la crisi colpisce anche l'Arma, costretta a ridurre, a tagliare e a fondere reparti. Ma i risultati non vengono meno, anzi, le percentuali di arresti aumentano, così come aumenta il numero dei latitanti assicurati alla giustizia dopo anni di clandestinità. Io penso proprio che questo rappresenti una grande opportunità. Stiamo razionalizzando il dispositivo sul territorio e stiamo cercando di accorpare reparti per dare un servizio sempre migliore alle popolazioni del territorio. In questo non arriteremo di un solo passo in quella che è l'assistenza alla presenza nostra a favore delle popolazioni. Disfatto dei risultati ottenuti ma i cui esiti ci sono stati partecipati dall'autorità giudiziaria con la quale operiamo indirissolubilmente in ogni provincia della Calabria. I risultati ottenuti che ho elencato poco fa nel mio intervento sono di grandissimo rilievo. In particolare vorrei soffermarmi sui 20 latitanti arrestati e oggi ne rimangono veramente pochi qui in terra di Calabria ancora latitanti e comunque quasi nessuno di spessore elevato. C'è anche San Luca nelle parole del generale che ricorda come i bambini del paese che ha dato Natalia all'Andrangheta durante una manifestazione abbiano fortemente voluto stringere la mano ai carabinieri. In un altro luogo non avrebbe avuto nessuna rilevanza ma che qui in Calabria e soprattutto lì nella Locrida in San Luca è veramente un evento straordinario che ci testimonia di quanto le istituzioni, non parlo soltanto dell'arma dei carabinieri ma parlo anche della scuola, parlo anche delle associazioni di volontariato, possono fare veramente tanto per cercare di modificare alcuni modi di pensare che non sono ancora favorevoli e non sono ancora in linea con quella che dovrebbero essere le mentalità correnti nella nostra regione. Grazie a tutti!